Buongiorno amici da Guido Bagatta, benvenuti e bentornati in questo spazio. Oggi parliamo di Milan. Perché? Perché in molti si stanno chiedendo che Milan è quello che stiamo vedendo in questi giorni, in queste settimane. Peraltro due settimane fa, prima della pausa, il Milan era primo in classifica, nessuno parlava di una possibile crisi dei rossoneri che invece adesso non è sulla bocca di tutti, però sono in parecchi a cominciare a preoccuparsi. Tifosi e non tifosi. Un Milan brutto, quello con il Paris Saint Germain, contro una squadra in crisi per certi versi, solo terza in campionato in Francia, però con un talento tale che prima o poi il talento doveva venire fuori, purtroppo è uscito con un Milan spuntato, davanti non ci sono cambi, centrocampo che fa fatica, una difesa un po' da rivedere. Il Milan, tra le altre cose, sta per vivere un mese complicato e decisivo, sia in Europa che in Italia. A partire da domenica, quando andrà a Napoli per giocarsi con il Napoli, appunto il primo posto, vedremo poi cosa farà l'Inter, ma sicuramente oltre al primo posto anche molto morale per il proseguo di un mese che dicevamo è molto molto complicato. Dopodiché ci sarà in casa l'Udinese e lì forse delle partite che giocheranno i rossoneri troviamo l'incontro più facile, tra virgolette non si può mai sapere, ma poi, attenzione, arriva San Siro, il Paris Saint-Germain. Lì si giocherà la stagione europea per quanto riguarda il Milan. Lì il Milan deve portare a casa il risultato e sperare poi una serie di incastri tra appunto il Borussia Dortmund e il Newcastle. Se poi parliamo ancora del campionato abbiamo una partita a Lecce che non è mai semplice, in casa con la Fiorentina e poi con il Borussia Dortmund a San Siro il 25 di novembre. Questo è il mese infernale del Milan che potrebbe portare i rossoneri in alto o in basso. C'è addirittura qualcuno che sta già parlando, ma era successo anche l'anno scorso, di un possibile esonor di Pioli che dopo anche le dichiarazioni di Calabria non avrebbe più in mano la squadra. Ma non andiamo a toccare punti dolenti che per adesso sono ancora molto molto lontani. Stiamo a vedere cosa succederà in casa appunto rossonera per le prossime quattro settimane. Noi invece ci vediamo lunedì sempre da queste parti. Grazie e buon weekend.